34esima giornata del campionato di Serie A, benvenuti a Parma, Parma e Napoli sono già in campo Attenzione al cross, a terra Lucarelli, calcio di rigore per il Parma, calcio di rigore, contatto Santa Croce e Lucarelli Budan contro Iezio, Budan, il Parma è in vantaggio, Igor Budan al 23esimo, 1-0, sesto gol in campionato Amsic per Lavezzi in profondità, ancora Lavezzi, accelera Lavezzi, cross, Bogliacino, da due passi e Bucci riesce a prendere il pallone Per Savini, preferisce la palla dentro per Amsic, ancora Amsic, va al cross, Amsic, Lavezzi, traversa di Mannini, ancora Mannini, calcio di rigore per il Napoli Fallo sul Mannini, rigore anche dall'altra parte E quando il Napoli gioca palla a terra non ce l'è per nessuno, bravissima Rosso anche, rosso anche I fischi del Tardini, Domizzi, 1-1, il pareggio del Napoli, Maurizio Domizzi all'ultimo di recupero Castellini insiste il Napoli, con Blasi in mezzo per Bogliacino, Lavezzi, c'è la chiusura di Bucci Pallone dentro, Falcone, poi Gliezzo riesce a bloccare Mannini al cross, Bogliacino, altra super occasione per il Napoli Ancora Blasi prova a calciare lui, Bucci, in calcio d'angolo, il Napoli vuole vincere questa partita Attenzione a Bogliacino, ancora il cross, Cannavaro, Bucci su Santa Croce Bogliacino allarga per Amsic, a terra Mannini, cross di Amsic, Bogliacino, Bogliacino, il Napoli è in vantaggio a Parma, 2-1, Mariano Bogliacino Lavezzi, prova a saltare Falcone, ci riesce ancora Lavezzi, caccia all'uomo, caccia all'uomo, giallo per Castellini Perché Lavezzi aveva un po' sbeffeggiato con un giochino sul pallone Falcone, sono andati in tre a fare giustizia E' arrivato il rosso per Falcone e Gargano Qui la caccia all'uomo continua, altro rosso, in otto finisce il Parma, fuori Gasbarroni Bogliacino per Sosa, posizione regolare, Sosa! Altra occasionissima per il Napoli che non riesce a chiudere E' un gol pesantissimo nel tuo perché fa tornare al successo in trasferno